Lazzaro, Ricci, preciso per Vlasic, corpo a corpo con Calulu, recupera Tonali, stavolta non pulitissimo Tonali, forse fallo, infatti è così, commesso da Pier Calulu, giallo per il difessore francese, leggerezza qua del numero 20. E' il primo ammonito della Milan, la grafica di Tonali, ma il fallo dovrebbe essere stato quello di Calulu, vediamo, infatti è proprio Calulu che stende Vlasic, ammonizione per Pier Calulu, questo Pioli, si vede molto bene il tatuaggio nel diciannovesimo scudetto del Milan, 11 minuti alla fine del primo tempo, Eccola qua la grafica corretta, con Calulu che riprende posizione e continua a toccarsi l'occhio. Quattro a saltare Per il Toro arriva anche un quinto, che è Vlasic, sono Miranciuk e Lazaro sul punto di battuta, due uomini, una sorta di barriera per il Milan, si allontana Miranciuk, sarà Lazaro, occhio a Schurz, buongiorno, c'è Gigi con Pellegri, va Lazaro in mezzo, Gigi! Vantaggio a Torino al trentacinquesimo, colpisce, Cofi Gigi, il più lesto ad arrivare sulla traiettoria velenosa di Lazaro, non può nulla, Tatarugiano, un bacio al palo, il pallone in fondo al sacco, vantaggio Granata con il numero 26, primo gol in campionato per il francese. Poco mobile la difesa del Milan, Gigi, è molto bravo a girare sul palo lontano, l'1-0 del Torino con Tatarugiano che prima bozza l'uscita, poi rimane in porta. Seguito male da Tomori e Gigi riesce a toccare quel tanto che basta per indirizzare nella maniera corretta verso la porta della Milan. 1-0 Toro, la gara è già ripartita. Leao, tocco per Messias, Leao, provare a agire subito il Milan, Leao attaccato. Per l'arbitro non c'è nulla, incredulo Leao e anche Orighi, ma è un Milan che adesso dopo gli errori proprio del portoghese in avvio dovrà fare molto meglio di così. Un Toro che sta interpretando la sua partita, cercando di limitare i rossoneri, adesso col vantaggio hanno anche la chance di gestirla e di provare a chiudersi e ripartire, anche se naturalmente è molto lunga. Rivia Milinkovic-Savic, scavalcato Pellegri, forse un tocco con il braccio, poi Miranciuk in aria, col sinistro! In due minuti, 2-0 Torino, Alexei, Miranciuk! Confusione totale della difesa del Milan, Miranciuk all'angolino, adesso si fa dura per la squadra di Pioli, doppio vantaggio Granata! Un pallone che danzava nell'area rossonera e Miranciuk è bravissimo ad infilarsi e a trovare lo spazio per far partire il suo sinistro sul rinvio di Milinkovic-Savic. Prima la tocca Gabbia, poi arriva Vlasic e Miranciuk va a depositare il pallone in rete, non perfetto questa volta Tatarugiano. Tradito dal rimbalzo, ma è cambiato tutto nel giro di tre minuti all'Olimpico. Grande Torino, Granata che sono stati molto abili a colpire il Milan due volte nel momento più difficile dei rossoneri. Grazie!